Ok, buonasera a tutti, sono Leonardo Porpora, mi è stato riservato il penultimo intervento della serata, quindi spero che abbiate ancora un po' di pazienza per ascoltare il talk. Vorrei fare solo una precisazione, abbiamo qua un ragazzo di 17 anni, fondamentalmente è uno dei più giovani qua dentro ed è uno dei più giovani che ha scovato più vulnerabilità in assoluto, quindi già soltanto per questo io gli darei un applauso solo per dargli la carica perché è il suo primo talk pubblico, quindi carica, 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 il suo primo talk pubblico ragazzi, diamogli forza dai. Sono uno studiente del liceo scientifico Francesco Redi di Arezzo, come ha detto Paolo, ho 17 anni e ormai da tre anni mi diletto a trovare vulnerabilità in software, quindi faccio mobile e anche penetration testing. Qui c'è un mio contatto nel caso in cui mi volesse contattare qualcuno e adesso vi presenterò due vulnerabilità che ho trovato all'interno di Signal, una che è stata già messa a posto da diverso tempo, mesi fa, che ho trovato all'inizio dell'anno, mentre una molto più recente che è stata fissata da veramente poco tempo. Iniziamo con quella che ho trovato all'inizio anno, che è il bypass dello screen locker di Signal per iOS. Questa vulnerabilità l'ho trovata pochi giorni dopo che è stata rilasciata questa feature su Signal per iOS, perché questa feature era stata richiesta da veramente molte persone e quindi quando è stata messa a disposizione ho detto perché non provare a bypassarlo e sono riuscito in poco tempo a trovare un modo per bypassarlo veramente molto semplice, come potrete vedere adesso da un video che ho messo in questa slide. Il problema che sta all'interno di questo screen locker è che è basato su un timer, quindi ogni persona poteva scegliere un timer, io per esempio avevo messo 5 secondi mi sembra prima che si bloccasse l'applicazione, però l'applicazione rimpostava il timer solamente tornando nella pagina home, quindi a me bastava cliccare il tasto home dell'iPhone, tornando nella pagina home questo timer veniva resettato e una volta resettato questo timer io avevo accesso all'interno dell'applicazione. Ho fatto richiesta di un CVE, per questa vulnerabilità mi è stato assegnato e ho comunicato la vulnerabilità Signal che è stata molto pronta nella risposta e in solo 12 ore ha rilasciato una fix che però era incompleta perché sono riuscito a ribaypassare sempre lo screen locker in un'altra maniera. In questo caso l'errore non si trovava semplicemente cliccando il tasto home ma il timer veniva rimpostato la prima volta dopo aver chiuso l'applicazione, quindi io dovevo chiudere l'applicazione, una volta che avevo chiuso l'applicazione pigiando il tasto home il timer dello screen locker veniva risettato e quindi mi permetteva l'accesso all'applicazione. Adesso iniziamo a parlare della nuova vulnerabilità che ho scoperto che è molto più recente di poche settimane fa e questa vulnerabilità qui riguarda il recupero di messaggi a scomparsa sul client di Signal Desktop. E qua adesso vi spiegherà il tutto a livello tecnico ma la vulnerabilità che ha scoperto e che ha riscontrato Leonardo è veramente una cosa gravissima perché come molte persone o molti di noi utilizzano il timer a scomparsa dei messaggi per naturalmente motivi di privacy o qualsiasi cazzo di cosa ci sia sotto, noi utilizziamo questa funzione perché siamo certi che il dato che noi andiamo a nascondere nell'arco di 30, 50, 100, 1000, 100.000 secondi non può essere più visualizzato quindi bisogna cercare di capire anche il motivo per il quale ha cercato di tirare fuori questa vulnerabilità, l'ha trovata e tutto quello che poi ne concerne e da qua nascerà un bellissimo discorso dopo dal quale vorrò una risposta da parte di tutti voi visto che sicuramente qua tutti utilizzate Signal se non tutti la gran parte. La cosa che mi ha incuriosito è questa qui che vedete in questa foto, tutto ha avuto inizio da questo screen qui perché qualcuno nota qualcosa di strano in questo screen? Mi lascio un po' di secondi per vedere se notate qualcosa. Il timer ha scomparsi dopo 30 secondi e dalla chat infatti non abbiamo più il messaggio però dopo 32 minuti ancora il messaggio rimane nella preview dell'home page di Signal e quindi ho detto questo messaggio da qualche parte sarà e quindi se è da qualche parte io lo posso recuperare e sarà solamente questo il messaggio che Signal ha salvato oppure ci sono anche quelli precedenti. Quindi ho iniziato a fare un po' di ricerca e ho visto che questa vulnerabilità qui che veniva rilasciato cioè veniva fatto ancora vedere l'ultimo messaggio nella preview era stato fissato due giorni dopo che l'avevo trovato ma senza che l'avessi segnalato io però ho detto magari i messaggi non sono più visibili dall'interfaccia grafica ma sono ancora recuperabili e infatti era proprio così. Adesso vi faccio vedere un piccolo video come dimostrazione Sì ma l'hai visto come si vedevano? Si vede? No non c'è un cazzo Bene Un applauso alla sua prima prima Non c'è neanche più il mouse Trovami il mouse No non viene Bisogna di assistenza Trova il mouse Non fa il mouse Non si vede questo Non lo vedi? Eh quindi Boh io dovremmo andare qua Questo è quello che dirà Quindi guarda guarda Se tu schiacci questo E mi sposto a me di fare 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 E poi lo dici E poi lo dici Fammi la sperimentazione E poi lo dici E poi lo dici Ah Dai ne fallo partire Adesso E io sono pronto Ah beh qui scrivo un messaggio Che poi ho impostato Il timer a scomparsa Dopo 30 secondi Ora sto scrivendo un messaggio Ho impostato Una funzionalità di Signal Che è il messaggio A scomparsa Dopo 30 secondi La conosci Signal? Ho impostato Una funzione di Signal Che ti permette Di cancellare il messaggio Automaticamente Dopo il tempo Che ti hai settato In questo caso 30 secondi Adesso sto scrivendo Un messaggio Che poi invierò E dovrebbe scomparire Dopo quel determinato tempo Sì Può intrattenere qualcuno Sì Adesso qui sto entrando Nella directory Dove ho scritto L'exploit in python Per Ritrovare il messaggio Io vengo exploit Io vendo exploit Ho fatto vedere Che Quindi Il messaggio è scomparso Sia dalla preview Dell'applicazione Che Da Dalla Pagina Della Del gruppo E adesso faccio partire L'exploit E io Ho recuperato Qui il messaggio Sì Sì Bene Adesso provo come fare Sì Bene Vai Quindi Quello che ho fatto io Per recuperare il messaggio È che Ho trovato Mi è venuto in mente Magari questo messaggio Si trova nella RAM E quindi Cosa ho deciso di fare Ho detto Proviamo a fare Un dump della memoria E poi con Ho fatto il dump della memoria E poi controllato Con strings Se il messaggio Se il messaggio era Se il messaggio era Ancora interno Alla Alla memoria RAM E Effettivamente era possibile Infatti Nell'exploit Io Faccio Prima Trovo il PID del processo Poi Una volta trovato Il PID del processo Faccio un dump Della memoria E poi Trovo Tutti i json Che iniziano Con una stringa Particolare Perché il messaggio A scomparsa Si trova all'interno Di un json Adesso Troviamo L'errore E la causa Di Questo problema In questa foto C'è L'errore E la causa Quindi Del Del bug Di signal C'è qualcuno Che riesce a trovare Ugo Dai Allora Chi c'è come Developer Chi si occupa Di security E che sviluppa Zero Day O comunque Fa pen testing Alzi la mano Allora Tu sei L'unica Persona Una delle poche Che può venire Qua davanti E leggere il codice Allora Qua dentro Non c'è nessuno Guarda Se soltanto Mi alzo Uno Guarda Guarda quello Che fa finta Di niente Che si tocca La barbetta Non dico Non dico Il nome Poi C'è quello dietro Quello dietro E ancora più simpatico Di lui Con i ricciolini Oh non dico I nomi Poi abbiamo Uno Cicciottello Che inizia con la R Ma non dico I nomi Nessuno Si occupa Di security Nessuno Fa Analisi Del codice Oh tu Stai Ok Dov'è il buco Qua Dai Cazzo Sono quattro righe Di codice C'è il buco Giusto Sì l'ho trovato Anch'io Ma adesso Sono più sbronzo Di quando Te l'avevo Detto sì Ok c'è Ok guarda Sì Vuoi rispondere tu O procedo io Vuoi rispondere tu Allora Abbiamo Abbiamo Adesso Ok Ok allora Prima domanda Non esiste OnExpired Per quale motivo Deve esistere qua Un OnExpired Perché quel dato Dove viene scritto In RAM In In dove OnExpired In ogni caso Tu lo devi gestire A livello di RAM Quindi nel momento In cui tu Scrivi il dato Nel momento In cui tu decidi Che quel dato Non deve più esistere Lo devi Eliminare Aspetta Eccolo L'epic fail E un applauso Per l'epic fail Se non lo faceva Doveva pagare Una birra a tutti Quindi Qualcuno l'ha trovato Il probabile errore Ha detto di dire Che sei uno stronzo Allora Dai Lo spiegherai Perché se non lo fuggio Cosa Il motivo per cui c'è il bug Il motivo per cui c'è il bug Allora I messaggi I messaggi Fa il dump di tutto E poi non usa un garbage collector Per pulire Quindi i messaggi Quindi a tempo Quindi a scomparsa Vengono salvati Nei log E questo Viene utilizzato Per fare Un doppio controllo Sulla cancellazione Però dopo si sono Una fix Una fix Di alto livello Perché 0 beta 2 Allora Cancella Tutti i log Dei messaggi Però Quello che Penso io è Che se una persona Usa la versione Signal 1.14.1 E quindi è ancora Vulnerabile E poi passerà Alla versione 1.16 Questo passaggio Non avviene E quindi I log Non vengono cancellati E quindi automaticamente Io posso recuperare Tutti i messaggi Non hanno detto niente Gestione della vulnerabilità Abbiamo contattato Il security team Di Signal Mi ha stato dato Un contatto diretto Per un numero di telefono Per mandare L'exploit E Ci sono voluti Circa tre giorni Perché analizzassero E fixassero Il problema E poi Niente Sono venuto qui A Parlarvene Allora Qua invece Volevo intervenire Un attimino io Per spiegarvi Per quale motivo Lui è qua E per quale motivo Io sono sbronzo Perché bevo Quindi Quello l'abbiamo capito Tutti Allora Io conosco Leonardo Da pochissimo tempo Mi ha invitato Una volta Nella sua scuola Un annetto fa A parlare Ho conosciuto lui Ho conosciuto le sue potenzialità Le sue capacità Nel momento Nel momento in cui Ha trovato Una vulnerabilità Su Signal La prima cosa La prima cosa che gli ho detto Cacchio Vai Parti di lasciare Il CVE Tira fuori Exploit Giralo Scrivono La patch E ti becchi Il riconoscimento Della vulnerabilità Riscontrata E questo l'ha fatto Poco prima Dell'organizzazione Di tutto Il team Scusate Il content team Di IHC Mi ha chiamato Mi fa Oh Pavel Cazzo Ho trovato Un'altra vulnerabilità Su Signal Della madonna Cosa devo fare Cosa facciamo E ho detto Cazzo Contattiamo Signal Però Teniamoci Un spiraglio Cioè Cerchiamo di Dare a IHC Un Valore in più Quindi Cos'è questo valore in più? Pubblichi Uno zero day Di Signal Direttamente Davanti alle persone Che Partecipano All'evento Lui Completamente d'accordo Chi c'è qua Del team Organizzativo Di IHC Alzate le mani Un applauso Un applauso Ed è grazie a te Che prima io sono riuscito Ad andare Perché avevo il cagotto E me la sono goduta Di brutto Grazie Al di fuori di questo Io ho contattato Lui Cioè lui ha contattato me E io ho contattato I ragazzi Del team Organizzativo Lo Tu Ti sei Loggato giusto Nel canale Di IHC E hai proposto Questa cosa Perché io ti avevo detto Di farlo Immediatamente Non so se Quante persone Una Due Tre Cinque Ti hanno cominciato Massacrare Romperti Coglioni A Cioè A farti credere Un qualcosa Di sbagliato Oh Te stai zitto E non rompere i coglioni Allora Lui è un ragazzo Di 17 anni Che ha la voglia Di condividere La propria Conoscenza Le proprie esperienze E condividere Le vulnerabilità Che trova Per dare una mano Non per fare Dei danni O per creare Un qualcosa Di negativo Noi L'unica cosa Noi almeno Io inizialmente E poi ho condiviso con lui Ed è stato approvato Anche da Giorgio E da altre persone Del comitato organizzativo Dell'ES Scusate IHC Cos'è successo? Una barcata di persone Tutto il giorno Gli hanno massacrato I coglioni Dicendogli No Tu sbagli Tu non devi Rilasciare Zero Day Tu devi comunicarlo A Signal Tu devi comunicarlo A Open Whisper System Tu devi No Tu se fai così Allora Abbiamo un ragazzo Di 17 anni Che sta cercando Di tirare fuori Vulnerabilità Di aiutare le persone L'unica cosa Che Ha bisogno Lui Per poter crescere È Un minimo di voglia Di fama Di Qualcuno che dice Si cazzo Stai facendo una cosa buona E vai avanti E la community Nostra Perché tutti voi Ci siete in mezzo Tutti Volenti o nolenti Gli avete tirato Merda Ok Se vuole fare La cosa giusta Deve fare La cosa giusta Va bene che un ragazzo Di 17 anni Va bene Incoraggiarlo Va benissimo Signal viene utilizzato Anche da persone Che fanno Lavoro sui diritti umani Persone che devono Tutelarsi Perfetto D'accordo Allora Va bene Avvertire E fare Responsible disclosure Di questa cosa Non portare Lo zero day Senza fare La responsible disclosure Perché a questo punto Metti a rischio Queste persone Io sono uno di quelli Che ha espresso La perplessità E ho chiesto Al codice etico Cosa ne pensano Di questa cosa Cioè Va benissimo Che un ragazzo Di 17 anni Va benissimo Che la fama Va benissimo Tutto Quello che Se mai Ha fatto come errore È quello di Accettare La proposta Di dire Non avverto Prima quelli di Signal Ma parto direttamente Raccontando A IHC La zero day Per come L'avevamo capita Allora Infatti tu Scusami Mi permetto Di dare del tu Come tante altre persone Perché non sei stato l'unico Quindi non sto dando Colpa a nessuno Io Ma è Correttissima Della stessa cosa Che avrei espresso io Non conoscendo L'ambito che ci stava dietro Quindi la cosa più importante È prima capire Prima di giudicare Prima di dire Capire come funzionano Le cose E cosa c'è dietro Perché io E lui E tutto il team Di Open Whisper Systems E tutto il team Di IHC Prima di pubblicare Quest'informazione Abbiamo Fatto partire Un iter Che è una rottura Di coglioni Di quelli che Sai che ti Bababa Che vanno Da una parte All'altra Ed è Ed è questo Quello che A me ha dato Fastidio Di persone Che non conoscono Questo ragazzo E io Vorrei chiedere A tutto a tutto il membro, il mio membro va bene lo lasciamo da parte, a tutti gli organizzatori, a chiunque si sia permesso o chiunque abbia scritto qualcosa nei suoi confronti di chiedere scusa non a me ma a lui personalmente al di fuori del talk, perché? Perché noi abbiamo organizzato il tutto in maniera completamente aperta, cioè noi abbiamo in primis chiesto a OpenWish per Systems di venire al nostro talk, ok magari economicamente non si poteva organizzare, va bene, altra cosa, questo era un problema. Noi abbiamo semplicemente chiesto di portare all'interno di IHC, Italian Hacker Camp, uno zero day per il tempo di un minuto, meno di un minuto, perché loro avrebbero già saputo il codice vulnerabile che lui ha scoperto. Io volevo soltanto, noi volevamo soltanto far sì che qua all'interno, come adesso ci sono tante persone interessate a quello che noi stiamo dicendo, quello che Leonardo sta dicendo, perché io sono uno stronzo di fuori che sto semplicemente commentando la situazione, io volevo semplicemente che Leonardo e IHC avessero una prestigibile iscrivibilizzazione, un qualcosa di bello e pubblicare uno zero day nel momento in cui io ne parlo e ho il team qua davanti che me lo patcha nel momento in cui io parlo, oppure nel momento in cui io parlo e il team è a Onolulu o a farsi delle seghe o andare a puttane a Taiwan o dove, a me non interessa, l'importante è che se io ti dico io parlerò di questa cosa in questo momento, in questo secondo, in questo orario, di questo fuso orario, tu in cinque minuti lo patchi? Sì, perché hai già il codice per patcharlo, perché sai già qual è la vulnerabilità, per noi era semplicemente portare IHC, Italian Hacker Camp, ad un livello un pochino più alto di prestigibile iscrivibilizzazione, come cazzo se lo chiamano. Lo so, ed è per questo, una cosa sbagliata è attaccare una persona senza sapere quello che c'è dietro. No, vabbè, in alcuni messaggi è stato proprio detto... Vabbè, ora preferisco non entrare proprio nei dettagli, comunque... Cioè, che non era giusto quello che facevo, che non doveva andare bene, portare niente di questo genere a un talk in questo modo. Poi, diciamo che ho anche attivato il messaggio a scomparsa per la chat, perché non era stato di mio molto gradimento, però... Allora, io sono il primo che combatte per i diritti di libertà di chiunque, e questo era un metodo, un modo, per far vedere Leonardo come una persona che... Trova un ragazzo di 17 anni che in due mesi trova due vulnerabilità in signal. È impossibile. Scusa, 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 scusa. No, perché questa è una cosa che a livello umano e a livello di etica per lui è stata importante, perché una persona giovane, come magari lo ero io ai tempi, per me si tratta di una cosa completamente differente, ma una persona che ha voglia di fare, condividere, creare e dare un contributo, si sente, nel momento in cui lo fa, attaccato e senza uno sbocco e quindi oppresso, perché questa secondo me è stata una piccola oppressione nei suoi confronti. E poi, chi ha voglia, ci troveremo fuori a parlare della parte etica della cosa. Grazie mille, grazie mille, grazie mille. Come? Infatti io nell'exploit che ho scritto prendo prima il pid del processo, una volta trovato il pid faccio un gcore del pid, che ho chiamato signal.row e poi all'interno di quel file cerco i json e all'interno del json so che c'è il messaggio a scomparsa. No, 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 non suddisco, solamente la sessione corrente. E niente, se non ci sono altre domande... Niente, finito. Grazie mille. 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 Grazie mille.